Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per il consueto appuntamento con i giornali Occhio ai giornali appunto, Fano TV inizia così la giornata insieme a voi come tutte Le mattine dal lunedì al sabato, però prima di guardarli sono già pronti, sono qui il resto del Carlino e Corriere Adriatico In formato digitale, guardiamo insomma l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo, l'evoluzione del tempo nelle prossime 48 ore Allora oggi è sabato 10 settembre, San Nicola da Tolentino, il sole è sorto alle 6.34 e tramonterà alle 19.41 Vi facciamo vedere subito i dati che ci rimanda alla nostra postazione meteo Vedete in questo momento al suolo c'è una temperatura di oltre 22 gradi, 22.4 e un'umidità appunto quasi del 70% Quindi la temperatura percepita è confortevole e questa è l'immagine anche della webcam che ci rimanda Questo cielo così insomma tra il nuvoloso e il sereno però con un sole che fa capolino E allora previsioni anche insomma in questo rispettate quelle della protezione civile Sulle immagini della nostra webcam perché vedete anche la simbologia è più o meno la stessa Sereno poco nuvoloso, maggiori addensamenti nel settore centro-meridionale della regione E poi sui rilievi compare il simbolo della pioggia E le previsioni per domenica sono sostanzialmente uguali a quelle di oggi Sereno poco nuvoloso, maggiormente nuvolose nelle zone interne Anche quelle centro-meridionali dove sono previsti i rovesci sparsi nelle ore però pomeridiane Quindi nella zona bassa della regione le temperature sono in lieve aumento Soprattutto nei valori massimi Vediamo le previsioni per lunedì, primo giorno della settimana Sereno poco nuvoloso, debole attività cumuliforme Quindi sostanzialmente sarà sereno Temperature anche queste in aumento Nelle zone montane nel pomeriggio ci saranno locali piovaschi Il mare è poco mosso e nessun fenomeno particolare Quindi sostanzialmente un buon inizio di settimana Ed ora guardiamo le pagine dei giornali Iniziamo naturalmente dagli inserti locali Quelli di Carlino e Corriere Adriatico Partiamo dal resto del Carlino Che mette in primo piano, fotonotizia, l'avventura, la disavventura Di un marottese, di un ragazzo di Senigallia Che è stato appeso Sapete che c'è stato un problema sulla funivia sul Monte Bianco Salvataggi in estremi Vedete qui nella cabina, sopra la cabina Anzi c'è un soccorritore Eccolo qua Che praticamente porta i soccorsi A coloro che sono intrappolati Nelle cabine Che sono piccoline, come vedete Momenti di paura Gli ultimi sono stati portati via Ma altri hanno dovuto passare la notte lì E appunto lui è uno di questi Io appeso nel vuoto Poi si parla di post terremoto Controlli su là e nel liceo Mamiani Siamo a Pesaro Verifiche statiche in diverse scuole Poi in pie pagina I parrocchiani dell'Arcivescovato Protesta a Santa Verenanda Un laico per la Caritas Si parla della chiesa E poi i bagnini I canoni dei bagnini Aldemanio solo pochi spiccioli E a fine stagione Si fa sempre un po' il resoconto Di quello che è stato anche Dal punto di vista economico Pianeta scuola L'edilizia scolastica Spina nel fianco E' iniziato insomma Il monitoraggio sui solai E Pesaro non vince Il bando Inel Per il nuovo istituto Al campus Agrario L'istituto Agrario Scoppia di iscritti L'eccellenza del Cecchi Porta 260 studenti in più E quindi insomma Emergenza Aula Il presidente della provincia Tagliolini Dice impegno mantenuto Il 15% Il 15% Gli studenti Dell'alberghiero Potranno tornare Nella sede di strada Delle Marche Questa è una buona Notizia per loro E quindi dopo I problemi I lavori di ristrutturazione Ritorneranno Nelle o'aule E insomma L'istituto Inizierà a lavorare A pieno ritmo Come sempre Poi Nella pagina di Pesaro Sempre del resto del Carlino Lucia Annibali Un incarico importante Consigliere giuridico Firmato a Roma L'incarico Per il Ministero Delle Pari Opportunità Andiamo nella pagina di Fano Del resto del Carlino Si parla di aeroporto La parte pubblica Della società E' pronta A vendere Le quote E quindi parte anche Il conseguente passaggio Ai privati Sono pronte Provincia e Cavaliere di Commercio A vendere Le loro quote Il comune di Fano Che ha la maggioranza Relativa Forse seguirà Questa strada Boh Non si sa L'Enac Parte da parte sua Entro la fine dell'anno Dovrebbe assegnare Il bando Per la concessione Che sarà poi Triennale E quindi Insomma Nuovi scenari Si aprono per L'aeroporto Il nostro A di là della Possibilità di fare la pista In cemento No Insomma L'assetto societario In questo momento È forse la cosa più importante Sempre da Fano Per il resto del Carlino Si parla di ospedale L'ospedale che è invaso Dai senza tetto E a diverse persone Che bivaccano Al suo interno Parla anche Nardella E il responsabile Della direzione medica Del Santa Croce Che insomma Non hanno mai Creato problemi Dice lui E si spostano Da un Reparto All'altro Dell'ospedale Ogni volta che li facciamo Allontanare Il fenomeno Si è attutito Nei sette mesi Che insomma Ha visto Durante l'estate Tanti stranieri E italiani Proteste Fotografie E il direttore Appunto Dice Non fanno Danni Una pagina Di solidarietà La matriciana Che appunto Diventa Il piatto Della solidarietà Il 22 Tutti a cena In piazza Per raccogliere Fondi Per appunto Le genti terremotate Del centro Italia Quindi una matriciana Solidale Partita Sui Insomma Sui social network Sui siti web Due cittadini Lanciano l'idea E il comune Fa la sua parte Poi fotonotizia Vedete qui In piazza 20 settembre Una voragine Un buco È stato aperto Dagli operai Della CPL Concordia Per conto di Aset Perché c'era stato Un avvallamento Per una vecchia Fognatura E quindi insomma I lavori proseguiranno Però nella giornata Di lunedì Perché stamattina C'è il mercato E quindi insomma Si è deciso Di iniziare I lavori Lunedì Ci sarà una lastra In acciaio Carrabile Quindi si può Camminare sopra Senza alcun pericolo Il Corriere Adriatico Iniziamo con la pagina Di apertura Dell'inserto Locale Fiera Alvia Rischio caos Allerta contro i Borseggi Si parla della fiera Di San Nicola Che per tre giorni Sarà nel Lungomare Di Pesaro Appello del comune A usare Bici e bus Quindi problemi Anche di viabilità Per le strade Chiuse Ed eccolo qui Anche qui Portato in Centropagine Il racconto Di questo Marchigiano Nella funivia Bloccata sul Monte Bianco Il racconto Appunto Di queste Diciannove ore Così Tra gli ultimi A scendere Passati All'interno Della cabina La mia notte Sospesa Nel vuoto Dalla pagina Di Pesaro Dalle pagine Di Pesaro Del Corriere Adriatico Si parla anche Di un avvicendamento Che fra poco Avverrà La procura generale Ma Fredi Palumbo Dovrebbe lasciare Fra pochi giorni In Lizza Per rivestire Questa carica Così importante Due donne Melotti E tedeschi Che le vedete Qui nelle foto Del giornale Ancora Di ospedale unico Si parla Si parlerà Ancora Per diverso tempo Scende in campo Forza Italia Che si schiera Muraglia Va bene Dicono Ma serve Uno studio Il consigliere Giacchi Medico Dell'equip Chirurgica Generale Porterà Una mozione In consiglio E questa Ve la faccio Vedere dopo Continuiamo Con le pagine Di Fano Del Corriere Adriatico Anche qui si continua A parlare Di ospedale Il sindaco Non firma Per muraglia A Chiaruccia Un polo Di emergenza Si ricerca Il consenso Dei comuni E attivisti Per il sito Di Fano Ma la strada È sbarrata Anche dall'app La famosa app Con i criteri Di assegnazione Che hanno visto Sicuramente Non privilegiare La proposta Del sindaco Di Fano Massimo Seri E poi Una Anche qui Il Corriere Adriatico Riporta Una vicenda Che ha un aspetto Anche sociale Di cui vi abbiamo Parlato anche noi Un paio di volte Con alcuni servizi E appunto Il rischio Di mettere sotto Un ragazzino Per questo Gioco Giochi pericolosi Si chiamano appunto Così Vicino all'aeroporto Insomma Questa è la zona Deputata Anche la Insomma Le deputate Lara Ricciatti Dice Agisca La scuola Quindi Bisogna capire Che cosa c'è Alla base Di questo fenomeno I minori Sbucano dal buio Si parlano davanti Alle auto E poi Per scansarsi All'ultimo minuto Dibattito Appunto In città Per questo Aspetto Secondo Lara Ricciatti Di crisi Educativa Imbottigliati Nel traffico Abbiate pazienza Fanesi Dice Perché insomma Sono ripartiti I lavori di asfaltatura In via Roma E disagi Nel tratto Urbano Dell'Adriatica E rifarcimento Appunto E con questo Manto speciale Lo Slary Seal E poi Verrà assegnato Un colore rosso Ed un'amalgama Diversa Per le piste Ciclabili Insomma Però vedete Nella Nella foto Insomma Evidenti problemi Di traffico Anche Lungo Via Le Gramsci Insomma Si ripercuote Su tutto il traffico Cittadino Questo Questo aspetto Dalla pagina Della Valle del Cesano Nel Corriere Adriatico Divisioni Sono dannose Si parla di Unione Dei Comuni Occorre uno Spirito unitario Il consigliere Sora Stigmatizza L'atteggiamento Del comitato Mondolfese Ancora nella pagina Che riguarda La Valle del Cesano Si parla di accoglienza Dei migranti Che sono Qui Da noi Insomma Accoglienza Si ma In sicurezza Ovunque Anche Naturalmente A Pergola Interviene la Prefettura Dopo le polemiche E dice Legittimo L'uso Del motel Magi Dove appunto Sono ospitati I migranti Nella pagina Di Senigallia Il sindaco Manda una lettera A tutti I remigini I remigini Sono i bambini Che affronteranno Fra pochi giorni Il loro primo giorno Di scuola E allora Mangialardi Maurizio Mangialardi Che vedete qui Nella foto Pensa bene Di mandargli Una lettera Una letterina Molto bella L'impegno Di Mangialardi E Brignone A pochi giorni Dall'anno scolastico L'impegno Di Mangialardi E quella appunto Di mandare Questa lettera Dice Sono Maurizio Il sindaco Della tua città Ormai è vicinissimo Il 15 settembre Il tuo primo giorno Di scuola Ed inizia Una nuova avventura Ecco Fortunati I bambini di Senigallia Che hanno avuto La lettera Del loro sindaco Io non mi ricordo Di averla ricevuta Ma sono andato a scuola Appunto E basta Tra i genitori Della Rodari Anche la deputata Di Possibile Che insomma Dà un aiuto Concreto E appunto Pennello alla mano Insomma Si mette A dipingere E a rimettere A posto L'aula Insomma Una delle aule Allora Siccome la rassegna del sabato È l'ultima rassegna della settimana Vi diamo anche Qualche piccolo consiglio Su cosa fare Su quello che c'è E qui a Fano Siccome Fano TV Si vede anche Nella provincia di Ancona Non solo A Fano e Peso Insomma Quindi c'è Un ampio territorio Che copriamo E quindi Perché no Venite al Festival del Brodetto Una manifestazione importante Un mare di Brodetto Vedete qui C'è questa succulenta pentola Piena di pezzi di pesce Tante sono le versioni Di questo Di questo Piatto Della gastronomia italiana Le versioni più amate Sono Il fanese Quello La san benedettese Portoricanati E Ancona Naturalmente I brodetti marchigiani La fanno da padrona E quindi In queste due pagine Di questo inserto Food and wine Del Corriere Si parla appunto Del brodetto E poi Se volete anche Cimentarvi voi stessi Con questa preparazione Ci sono anche I consigli E anche La ricetta La ricetta Originale Del brodetto Allafanese Brodetto Nato Sui pescherecci Quando insomma Col pesce di risulta Che avanzava I marinai Si preparavano Il pasto Così Con un po' di concentrato Di pomodoro E quello che avevano Bene Grazie per essere stati Con noi Questo è tutto Per questa rassegna stampa Questa ultima rassegna stampa Della settimana Occhi giornali Torna lunedì mattina Alle 7.30 Puntualmente Grazie E buona fine settimana A tutti voi